I dati, ma dove siete? Oh, Gallo, ma dove sono i dati ora? I dati sono a mangiare qui nelle isole, sono alle Canarie, sono qui, di là a spendere i soldi. Tanto loro non c'hanno mai problemi. E' l'operaio che c'ha problemi della sopravvivenza. E allora che è successo? Loro vanno e a settembre vengono, operai! E noi ci sono la liga, non ci avete la liga. operai a far sciopero, ma come? Non ci sono la liga, ma vanno fatto il sciopero. Allora, andavamo fatto prima, cari signoristi. Andavamo fatto prima lo sciopero, no? Allora, a gusto, andavano tutti al mare, traghetti, si bloccava tutto. Ecco dove siete la discoperta. Grande Carlo, grande Carlo, grande. Magari Carlaccio, grande, grandissimo. Ecco, è la lì il problema. Ma no, a settembre, a settembre è troppo facile. Voglio la faccia piena e noi nemmeno siamo stati a casa perché non ci sa la liga, della sopravvivenza, non ci sa nulla. E voi te facciamo la settembre, lo trovi hai. Grande, 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 grande. Grande, 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 grande.